Con chi sei a pranzo? Con Sabrina. Con Sabrina, esattamente. C'hai tre e quattro foto? C'è quella del Papa? Sì. Dopo quella del Papa, poi mette me e poi gli altri? Posso andare in seconda posizione? Al primo posto. Al primo del Papa? Al primo posto. No, lasciamo prima il Papa che non dovrei che dà lassù. Papa e poi. Sì, sì. Ma tu ci vedi meglio? Faccio una tirata qua, ti vengo a trovare e poi me ne torno a casa. Ti piace così? Sì, sono difficile. Grazie dell'ospitalità. Grazie a Cogliatri. Grazie dell'ospitalità e brava, brava, brava. Grazie a Cogliatri. Questo sì, perché senza autografo vale la metà. È scritto male, è scritto male. È scritto che si capisce. È scritto sempre quello. Ah, sensato. Grazie.